Buongiorno, 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 good morning, buongior, dobre digne, speriamo di riuscire a fare questa live, vediamo se riusciamo a fare una live in casa, non in mezzo al freddo, perché oggi fa veramente molto, 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 molto freddo, mi dite se mi vedete, se mi sentite, se si blocca, perché l'argomento di oggi è abbastanza importante, avete visto l'argomento della live, la live è la Lehman Brothers, ho detto Lehman Brothers, all'americano, mi sentite, mi vedete, si può sapere se mi sentite, mi vedete, buongiorno a tutti, e per gli ebrei buoni, bo kerto, per gli musulmani buoni, salam aleikum. Buongiorno, buongiorno, Massimo, mi senti, mi vedi? Oggi parliamo della Lehman Brothers, ovviamente io non so tutta la storia, se qualcuno è più esperto di me può venire in live e spiegarlo, io vi dico le strane cose che ho trovato della Lehman Brothers, perché so, veramente strane queste cose, Massimo, più che strane sono veramente, mmmm, qualcuno ha mai sentito parlare di questa banca Lehman Brothers fallita il 15 settembre, ciao Gianfranco, ciao ciao ciao, allora, qualcuno di voi ha mai sentito parlare di questa banca Lehman Brothers, che era una banca sta, era, perché è fallita il 15 settembre 2008, ed era una banca americana, mmmm, che ha subito varie vicissitudini, ma non importa se salta l'immagine, da dove vi perdete, chissà chi sono anziana, l'importante è che, sentite, eh, vedi che perde la connessione, perde la connessione, perché stiamo parlando di argomenti un po' critici, stiamo, quando si parla di argomenti un po' critici, tendono, sì, buongiorno, buongiorno Antonella, come stai oggi? come stai? Allora, oggi parleremo, proveremo, anzi, mettiamo, proveremo a parlare della Lehman Brothers, vi leggo da Wikipedia, così non dite che mi sto inventando le cose, eh, ciao ciao ciao, ciao Frank, come stai oggi? Allora, la Lehman Brothers, scritta Lehman Brothers, ok, è fondata nel 1850 durante la breve presidenza di Zachariah Taylor, buongiorno, buongiorno, ben rom, ok? Stiamo parlando di Lehman Brothers, scritto Lehman Brothers, questa famosa banca, si sente bene? Oh, vai! Allora, questa famosa banca americana, che fa lì il 15 settembre 2008, ma sembra che settembre per questa banca sia sempre stato un mese in fausto, vi andate a vedere tutta, io ve la leggo brevemente, tutta la storia e le connessioni legate, perché questa banca americana aveva la sede, al World Trade Center, che cos'è il World Trade Center? Se avete presente le torri gemelle, quelle che sono state abbattute o c'era la causa di questi terroristi, insomma, scegliete la versione che vi piace, praticamente, la Lehman Brothers aveva la sede dei suoi uffici al World Trade Center, e mi staccano la live, ecco, staccatemi la live, al World Trade Center c'erano questi uffici di questa banca, e qualcuno ha insinuato, ah, ma magari è convenuto anche loro, no, perché adesso vi faccio delle connessioni, sono delle ipotesi, non ho detto che ho la verità in tasca, ma sono delle ipotesi su cosa potrebbe essere realmente successo, ok? Allora, intanto spieghiamo che cos'è la Lehman Brothers, abbiamo detto, buongiorno, buongiorno Marina, buongiorno, allora, la Lehman Brothers, leggo da Wikipedia, è una banca, no, americana, fondata nel 1850, ok, fondata da Henry Lehman, Emmanuel Lehman e Mayer Lehman, ok, non esiste più questa banca, non esiste più, un pezzettino di questa banca l'ha comprata, la banca inglese Barclay, però non era una banchetta, buongiorno, buongiorno, non era una banchetta da quattro soldi la Lehman Brothers, era una bancona, vi dico le cose che ha fatto, e poi proviamo a mettere in connessione, ma senza malizia, dobbiamo essere abbastanza, diciamo, distaccati, e non farci influenzare dagli accadimenti presenti, ma io vi ricordo, a livello mondiale, che da settembre 2008, con il crollo della Lehman Brothers, tutta l'economia mondiale ne ha risentito, e compresa l'economia italiana, perché se dal 2001, quindi da settembre 2001, il mercato immobiliare si è pompato, si è allargato, tutti compravano case, davano i mutui a cani e porci, poi d'improvviso, con il crollo della Lehman Brothers è tutto a catena, perché vi ricordo, quando crolla qualcosa, c'è una catena, e arriva questa onda, anche in Italia, ok? Allora, di conseguenza, anche l'economia italiana e il mercato immobiliare italiano, ha iniziato a risentirla, con una parabola discendente, fino al picco minimo, perché questa parabola ha toccato il picco minimo immobiliare del valore dei nostri immobili, iniziando dal 2010 fino al 2012, perché il 2012 pare che sia stato l'anno che i prezzi siano stati più bassi, ma questa è storia, io vi parlo da geometra, quindi di queste cose non intendo, non è che sono così improvvisata, però mi è piaciuto controllare che cosa era successo, ma ripeto, sono ipotesi. Allora, la Lehman Brothers, che è una banca, diciamo, americana di vecchissima data, il 15 settembre 2008 annuncia l'interazione di avvalersi del capitolo 11. Che cos'è il capitolo 11? Capitolo 11, per farvela in breve, è un modo per risanare la banca usando delle leggi, diciamo, ve lo leggo, dice, è la principale norma fallimentare degli United States Code degli Stati Uniti, consente alle imprese che lo utilizzano una ristrutturazione a seguito delle dichiarazioni di fallimento, essendo una legge federale statunitense, i soggetti possono, in alternativa, ricorrere a leggi statali, spesso più rapide e snelle per gestire situazioni di insolvenza. Però questa banca veramente era insolvente? Questa banca veramente era messa così male da farla fallire? O l'hanno voluta far fallire? A voi la risposta, non ve la voglio dare io la risposta, adesso vi metto insieme i pezzi. Allora, questa banca fondata nel 1850 fa dei passi da gigante, non vi dico le cose diciamo vecchie, 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 ma è molto interessante questo punto qua. Allora, la fusione, la fusione con American Express, sapete che cos'è l'American Express? La MEX, le prime carte di credito, il primo sistema è proprio nato con l'American Express, perché noi, la carta di credito, le cose, ma anche in Inghilterra sono arrivati dopo. Chi ha inventato le carte di credito? L'hanno inventato gli americani e soprattutto l'American Express, ok? Vi leggo questa cosa da Wikipedia che è veramente interessantissima. La fusione di Lehman Brothers con American Express, ok? Ascoltate. Con la guida di Peterson, Pete Peterson, in qualità di presidente, amministratore e delegato, la società acquisì la Habram & Co., nel 1975, e due anni più tardi, si fuse con l'autorevole ma litigiosa Kuhn, Loeb & Co., per formare la Lehman Brothers, Kuhn, Loeb & Inch, La quarta più grande banca d'affari del paese, quindi stiamo parlando di una banca, allora, la quarta più grande banca d'affari del paese, dietro a Salomon Brothers, Goldman Sachs e First Boston. Ripeto, Salomon Brothers, Goldman Sachs e First Boston. Peterson guidò la società da significative perdite operative a cinque anni consecutivi di profitti record, con un tasso di rendimento del capitale, tra i più alti nel settore di Investment Bank. Nel tempo, le ostilità tra le divisioni Investment Bank e la divisione Trading, cos'è il Trading? Quello che fanno le cose in borsa, i giochi in borsa, dalla quale proveniva la maggior parte dei profitti della società, spinsero Peterson a promuovere Lewis Gluckman, che già era presidente e direttore generale, ex trader, alla carica di co-amministratore delegato dal maggio 1983. Gluckman introdusse una serie di cambiamenti che ebbero l'effetto di aumentare le tensioni, le quali, unite allo stile maneggeriale di Gluckman e all'andamento negativo dei mercati, sfociarono in una lotta di potere che strommise Peterson e rese Gluckman unico amministratore delegato. Sconvolti ed esacerbati dalla lotta di potere, molti banchieri lasciarono la società. Steve Schwarzman, presidente del Comitato per le Fusioni e Acquisizioni, ricordò in un intervista rilasciata nel febbraio 2003 a Private Equity International, che Lehman Brothers aveva un ambiente interno estremamente competitivo, che alla fine diventò poco funzionale. L'ambiente aziendale soffrì questa disintegrazione e Gluckman subì pressioni per vendere la società alla Sherson, una società di transazione elettronica del gruppo American Express. Nel 1984 per la somma di 360 milioni di dollari. L'11 maggio le società si unirono dando vita alla Sherson Lehman American Express. Nel 1988 la Sherson Lehman American Express e la AEF Newton & Co. si fusero nella Sherson Lehman Newton & Inch. Poi parla dopo che praticamente l'American Express, nel 1993 arriva questo nuovo ADE che si chiama Richard Fulton e praticamente di nuovo si divide American Express, questo sistema di carte di credito da, si scinde, no? Da Lehman Brothers sotto la direzione di questo personaggio che dura dal 1994 al 2008. E quindi abbiamo detto c'erano le lotte interne di questo, io voglio questo, io voglio questo, io voglio quello. Che cosa è successo l'11 settembre 2001? Ve lo ricordate quello dell'attentato delle torri gemelle? Il quartier generale della Lehman Brothers era proprio in queste torri gemelle. Io vi leggo sempre da Wikipedia. L'11 settembre 2001 la Lehman occupava tre piani delle torri nord del World Trade Center in cui perse la vita un dipendente. Il suo quartier generale globale nel Free World Financial Center è stato pesantemente danneggiato e reso inagibile da detriti caduti, lasciando così senza posto 6.500 dipendenti. Ma guarda caso. La banca recuperò velocemente e ricostruì la sua presenza. La direzione trading si trasferì su un'altra sponda del fiume Houston, perché c'è il fiume a New York, quindi va nell'altra sponda. Nei locali siti a Jersey City e New Jersey, perché New York è nello stato del New Jersey, dove una sala di contrattazione venne improvvisata e messa in linea in meno di 48 ore dagli attacchi. Quando il mercato azionario riaprì il 17 settembre 2001, le risorse di sale e trading di Lehman erano state ripristinate. Cioè nonostante che li avessero abbattuto e distrutto tutti gli uffici della Lehman Brothers, questi in giro dieci giorni, neanche meno una settimana, si erano attrezzati a essere operativi. Questo vi fa capire quanto sono forti, quanto erano forti, correggo, diciamo i dirigenti e il potenziale della Lehman Brothers. Poi la cosa molto strana è che Lehman Brothers non aprirà più uffici nel centro di New York. Non sto scherzando, vi leggo da Wikipedia, è stranissima questa cosa, perché la presenza di una banca nel centro di una città è fondamentale, soprattutto una banca che abbiamo detto, che è la quarta... In centro Manhattan, ma guarda caso, perché Manhattan è un quartiere di New York, proprio diciamo per le banche come posizione. Allora, nei mesi seguenti la società distribuì le proprie attività operative in tutta l'area metropolitana di New York, in oltre 40 sedi temporanee. Nell'occasione la divisione Investment Banking convertì le sale d'aspetto del primo piano, i ristoranti e tutte le 665 camere dell'hotel Sheraton di Manhattan in spazi per uffici, la banca... Eccola, eccolo, no, il nostro hacker di turno. Ripeto, perché quando cercano di entrare in live, poi mi bloccano la live. Allora, nell'occasione la divisione Investment Banking convertì le sale d'aspetto al primo piano, i ristoranti e tutte le 665 camere dell'hotel Sheraton di Manhattan, in spazi per uffici. La banca sperimentò inoltre l'orario flessibile e bla 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 bla. Con il quartier generale mondiale di Morgan Stanley, che è un competitor di Lehman Brothers, situato a soli due isolati di distanza, al numero 1585 di Broadway, sulla scia degli attacchi, la società stava rivalutando la propria pianificazione degli spazi, che avrebbe posto oltre 10.000 dipendenti nell'area di Thames Square. Lima cominciò il trasferimento nel nuovo palazzo a gennaio e terminò a marzo 2002, un trasloco che migliorò significativamente il morale all'interno della società. Questo vi fa capire che con tutte le banche e tutte le cose, solo la Lehman Brothers fu attaccata e perse proprio la sede della società, ma prontamente cercò degli altri uffici. Ma guarda caso proprio la Lehman Brothers, ma guarda caso. perché io vi dico la mia opinione poi, guarda caso proprio quella che dà fastidio, guarda caso proprio quella che aveva queste lotte interiori, ma guarda che caso, no? Non ci sono riusciti con l'11 settembre ad abbattere il morale, perché questi nel giro di un anno, neanche pochi mesi, si sono lanciati alla grande a cercare uffici, cercare sedi, cercare cose. Poi, magicamente, tra mille attacchi, no? Perché ci fu proprio la bancarotta, non sto scherzando, no? Andatevi a leggere la crisi dei muti su Prime, queste cose qui. Combinazione, poi c'era un'offerta da parte di Bank of America, Barclay, per acquistare la Lehman Brothers, ma combinazione, queste offerte si tirarono indietro. Questo per farvi capire, se qualcuno vi vuole far fallire, vi fa fallire. Poi una cosa che è stata molto interessante, sono andata a cercare chi era questo presidente, no? Che dal 94 al 2008 ha gestito la Lehman Brothers. Questo presidente, che abbiamo detto che è Richard Severin Fuld, ve lo lecco, è un banchiere statunitese, noto soprattutto come presidente e amministratore delegato finale di Lehman Brothers. Fuld aveva ricoperto questa posizione allo scopo della società nel 1994, da American Express fino al 2008. Lehman Brothers ha presentato istanza di protezione fallimentare ai sensi del capitolo 11, il 15 settembre 2008, e successivamente ha annunciato una vendita di importanti operazioni ad altre parti, tra cui Barclays Bank. Andatevi a vedere adesso Barclays cosa fa, eh? Fuld fu soprannominato il gorilla a Wall Street per la sua competitività. Sentite cosa vi dico? Con The Nast Portfolio, che adesso vi spiego che cos'è con The Nast, e fate i due conticini, ha classificato Fuld al primo posto nella classifica dei peggiori amministratori di tutti i tempi, affermando che era belligerante e non pentito. Fuld è stato anche nominato nella lista della rivista Times delle 25 persone da incolpare per la crisi finanziaria. Perché io vi ricordo che se i giornali hanno deciso di trasformarvi in un mostro, vi possono trasformare in un mostro. Quando sono andata a vedere chi cavolo è questa con The Nast, eh? Perché bisogna andare a vedere. La con The Nast è praticamente la proprietaria delle riviste Vogue, Glamour, ok? Chi c'era sulla pagina di Vogue? A chi gli hanno fatto l'articoletto di Vogue? Eh? E allora vedete che tutti i puntini tornano? E staccatemi la live. Quando io vi dico di unire i puntini, non è perché mi diverto. Perché adesso sembra che tutta questa crisi, questo, adesso vogliono dare la colpa a questo Richard Severin Fuld della banca Lehman Brothers. Ma in realtà sono stati loro per primi che hanno voluto far fallire la Lehman Brothers. Perché era un competitor molto scomodo. E come sappiamo tutti, per far fallire un'azienda o per rovinare un'azienda non si può andare di petto. Bisogna iniziare a mettere un verme dentro la mela e la mela poi viene mangiata dall'interno. Sì o no? Quindi ricordatevi che quando un paese marcisce, marcisce dall'interno. Capito? Quando un'azienda marcisce, marcisce dall'interno. E chi tradisce è sempre un amico. Guardate a Gesù cosa gli è successo. L'ha tradito un estraneo o l'ha tradito un amico? Poi per carità, io posso essere una complottista, ma io vi dico che quei cari banchieri lì, quando gli date fastidio, potete essere anche la Lehman Brothers, potete essere anche Ilion Musk, ma se vi vogliono mettere game over, vi mettono game over. perché loro adesso si vogliono inventare che Ilion è cattivo, che questo è un personaggio cattivo, è vero Piero? Perché adesso sembra che la nuova narrazione che Ilion Musk è cattivo, è quello che vuole mettere i microchip nel cervello. Ma se voi ascoltaste l'intervista vera di Ilion Musk, non sta dicendo quello. Adesso gli piace molto i media, l'opinione pubblica, farvi passare, e staccatemi lai, farvi passare Ilion Musk per il cattivo e loro per i buoni. Ma sapete perché adesso per questa gente Ilion Musk è cattivo? Perché lui sta denunciando le zozzerie della Clinton family, della Biden family, eccola, ecco, e poi soprattutto ha scoperto che dentro Twitter c'erano degli amici di Bill Gates, dei Dem, di quell'altro e quest'altro, che censuravano le notizie. Allora, cari personaggi, anche voi in Italia, che fate il gatekeeping, cioè, mettete il cancello delle notizie che possono entrare, delle notizie che non possono entrare, ricordatevi che ci sono anche degli italiani che anche se sembrano sempliciotti, sanno leggere e scrivere, sanno leggere e scrivere e possono, con i loro occhi, leggere le notizie anche in altre lingue e in altre nazioni. A meno che non volete pure censurarci internet, ah già è vero, di notte volete staccare l'uso di internet, volete ridurre l'energia elettrica, volete ridurre tutto, ma io vi ho già detto come va a finire. Quando voi volete aumentare la pressione dell'acqua, poi l'acqua, pum, spacca gli argini. Perché queste sono leggi fisiche e la cosa voi non riuscite a concepirla perché di fisica non ne sapete una beata mazza. Perché manco quello avete studiato a scuola. Perché a scuola siete andati da paraculati e occupate un posto che non meritate, dal primo all'ultimo. Dall'usciere dall'usciere al grande ministro occupate un posto senza competenze. E la dimostrazione che gli scandali del Qatar sono proprio la punta dell'iceberg. 14 vice, ma lo sapete, 14 vicepresidenti. Ma che cazzo dovete fare? 14. Non ne bastava uno? Lo sapete quanti sono i vicepresidenti della comunità europea? 14. Ma che vi siete fumati? Roba brutta. Ah già, che in Olanda ci sono le psicodroghe, no? Perché lì le droghe sintetiche partono tutti dall'Olanda. Poi fanno in giro vedervi voi che vanno in giro in biciclettina. No? La storytelling è sempre quella. La favoletta è sempre quella. avete notato questi cari dem che vi vogliono far vedere che loro sono bravi? Ecologisti vanno a giro in bicicletta ma nel frattempo vi inchiappettano senza vaselina. Eh? Ma loro sono furbi. Peccato che a forza di raccomandare mio nonno mio zio mio cugino mio fratello avete messo lì della gente che è veramente da circo Barnum. con questo vi saluto ok? E vi invito ad andare a vedere tutta la storia della Lehman Brothers della lotta interna dell'11 settembre combinazione cioè questi qui li viene distrutti gli uffici dell'11 cioè con l'11 settembre solo alla Lehman Brothers si hanno rotto i coglioni li hanno distrutto gli uffici e poi magicamente si stacca dall'American Express e inizia il declino grazie a questo signor Richard Severinfeld se proprio è vera questa storia però andate a vedere tutti i retroscena di queste cose perché ripeto quando vogliono farvi fuori vi fanno sembrare l'uomo più cattivo del mondo come la storia no? è vero Marina che la storia di Stalin che doveva essere l'uomo più cattivo del mondo il dittatore poi c'era gente che ne faceva di peggio ma dato che la propaganda diceva che gli esportatori di democrazia sono bravi belli buoni biondi con gli occhi azzurri e quelli invece possono bombardare torturare civili possono farne di tutti i colori perché loro sono i bravi americani che hanno fondato una nazione a casa dei poveri nativi americani con questo vi saluto e facciamo una preghiera bellissima Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om quindi pace Mir in russo Peace in inglese Shalom in not Grazie a tutti.